Ciao, sono Alice! Ecco, solo perché il volantino MD, in super anteprima! Se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole, visita anche il mio blog su TrovaVolantini. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it 80.000 iscritti raggiunti, grazie di cuore! Ora con il vostro sostegno, puntiamo dritti ai 100.000! 80.000 volte grazie! Grazie a tutti! Che ne pensi di queste offerte? Scrivili i commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori! E tu, in quale negozio vai? Scrivili nei commenti! Su TrovaVolantini.it le offerte della tua città a portata di un click! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!